Andiamo diretti con Andrea Mattina... Mattia Brugnetti con Ray Stans! Buongiorno, sono Roger Grimsby. Oggi in tutta la costa orientale si fa un gran parlare di numerosi casi di attività paranormale. Pretese, apparizioni e relativi eventi soprannaturali vengono segnalati in tutto il territorio dei tre stati. Sono una sentito storia di spiriti la sera nei campeggi. Anche mia nonna raccontava di una locomotiva fantasma che decollava a razzo dietro la fattoria dove era nata e cresciuta. Ma ora, come se un'imprevedibile autorità... Strange in the neighborhood Who you gonna call? Ghostbusters! With something weird And it don't really do Who you gonna call? Ghostbusters! Largo che qui c'è un vapore a piena razza di quinta classe! Siete disturbati da strani rumori nel pieno della notte? Provate un senso di terrore in cantina o in soffitta! Voi o i vostri familiari avete mai visto spiriti, spiritenti o fantasmi? Siamo pronti a credere in voi! Dici qualcosa di questa meraviglia! Dici qualcosa di questa meraviglia! E' vero, è vero, ho tentato di rubarmi lo zaino... Ci sono dei trascorsi! Ma mi hai lasciato anche il rinnevatore, se non sbaglio... Ah, perché lo sapevi che c'ero io e non l'hai portato... E' vero, è vero, è vero, è vero!